Un colore ha il suo significato per me, il verde è l'esperanza, il rosso è l'amore e il sacrificio, il giallo è la gelosia, il grigio è la serietà, il blu è l'azzurro, il colore bello della bellezza della vita, perché tra il cielo, tra la terra, questi due colori, anche gli italiani, gli giocatori italiani, gli azzurri, hanno accettato veramente, perché anche tu guarda quella maglioni, ti tira il morale su. Io prima veramente sbiccioni, non rispetto al soldi, divertimenti sì, allora ho usato i soldi per divertire, sempre viaggiato, sempre fatto fino al festival di Sanremo, non passato un festival senza andare a vederlo sul posto lì, fino al 2000, fino anche questo anno andato, vedi, anche se prestato soldi la gente, però è andato pure quello, allora mi piace il festival sul posto, perché sul posto ho un'altra volta, ti senti il rapporto della gente, di quelli di Sanremo, di quelli italiani, di quelli che vengono di altri paesi, senti proprio... l'energia, i movimenti, l'energia, proprio l'unico mi vedi sul tv, come un agrogramma, allora, da quando ho conosciuto, mi ho conosciuto con l'agenzia dei viaggi, vedi, quando ho andato con un gruppo, il Perenimo, Sanremo, e l'ho fatto tutto, da questo momento, anche quando ho finito il contratto, io andare con i soldi miei, sempre lì, se io lavoro di un lavoro, chiedi ferie non pagate per la 5 serata del festival di Sanremo, e l'ultimo, quello perché mi racconta la mia storia, quello che ha vinto questo anno, quel stadio, perché parla con la sua figlia, la mancanza della sua figlia, dici tu, un giorno mi dirai tutto, torna di me e mi dirai tutto, e allora toccate al cuore, mi sento questo anno come il vincitore, non è quello stadio, perché racconta veramente la storia, perché io, vedi così... Grazie a tutti!